ma succede qualche fatto ma borco no ma no porco cazzo no 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 la maschera, la maschera, la maschera, no, 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 no posso scappare, no, 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 no Matilda, che senso? Oh, c'ha scritto... Oh, oh, che caccia... Madonna, santissima! Affanculo, Teo! Ora noi con estrema calma andremo via da qui. Con estrema calma. Pian pianino. Vero. AAAAAH! Ragazzi, no, no, non va bene così. AAAAAH! Cazzo! Abbiamo acceso la luce e la paura si riduce. AAAAAH! Cristo! Il cazzo si riduce, porca troia! E ci credo che ti stai cagando sotto. Ci credo che... Baronna mia! Che faccia brutta! Bruttissima! Che faccia di merda! Che faccia di merda! Che scarafaggi, che belli! Sono completamente fuori di testa io! Non sto capendo nulla! Ha ragione! Ha ragione! AAAAAH! Cristo! Cazzo! Cazzo! Ci ho dopo morto... Per l'algero di Catalino. Ah, è spava, è spava. Uh! Che cazzo ha? UAH! E' L'ONGO CRUSTO! Putta stronza! Leslie di merda! Leslie! Ma che è che il monaco è questo? Eheheheh! 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 E' vero! Eheheheh! Altrimenti io non si spiega! Avanziamo qui... Quindi c'è questa fantastica porta che ispira... RANNAGJA LA PUNTANA! Si voleva alzare, guarda come è in tre, guarda Nne ydye male nye nye fanculo no no perché si mantiene no oddio che cazzo era no c'è il mammone o mi fischiano le orecchie scherzando ma tu sei scemo proprio no 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 paura come si esce perché tutto nero c'è il tipo no no luca no 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 la luce ma quale luce ma sei scemo io mi cago sotto non me la fa accendere merda cosa è successo no 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 cazzo all'armadietto all'armadietto aia e chi gaspito lasamo la combinazione qua o che culo s z f te sfreghiamo la lampada vediamo faccio così le notti d'oriente con la loro magia son calde lo sai più calde che mai no come si zoom avete visto anche voi zoom o guarda quello con la gamba che sta facendo fatto ma come cazzo è caduto ma è spenta la luce di là si l'ho spenta perché praticamente la dovevo spegnere di là in modo tale che poi qui si accende che cristo è andaci a reverendo ah è l'acqua che scoroscia vedi ah devo far girare questi palli che devono scorosciare vedi ah cristo ma che cazzo ma io me lo aspettavo vaffanculo quindi a me fa piacere ovviamente devo dire che c'è un'abilità in questo gioco no 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 facciamo la sigla e poi ci vediamo domani sera dopo il lavoro bufu 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 aia beo mi sono dato un cazzotto ciao